No, assolutamente no, ci sono delle differenze profonde tra queste due organizzazioni, prima di tutto ISIS o lo Stato Islamico è uno Stato oramai e quindi Accada non è mai stata uno Stato, in ogni caso anche dal punto di vista ideologico ci sono delle grandi differenze, Al Qaeda era concentrata nell'attacco contro il nemico lontano, quindi gli Stati Uniti d'America e attraverso questo attacco poi si sarebbe indebolito l'appoggio che il nemico lontano dava al nemico vicino e quindi i regimi oligarchici, musulmani in particolare quegli arabi. Lo Stato Islamico invece è concentrato sul nemico vicino, non è minimamente interessato ad attaccare gli Stati Uniti, vuole invece attaccare i regimi che si trovano nel Medio Oriente per poter allargare lo Stato Islamico e quindi il Califato e ricreare quella che è stata la grandezza dell'Islam nel VII secolo, quindi queste sono differenze molto molto importanti. Lo Stato Islamico o il Califato o ISIS come lo vogliamo chiamare non è stato ancora sconfitto perché prima di tutto è uno Stato e quindi controlla un territorio che è grande quanto il Regno Unito, quindi è molto molto più difficile a schiacciarlo in un certo senso con le tecniche classiche dell'antiterrorismo perché si muove in una regione molto molto ampia che controlla. Perché gli Stati Uniti ancora non ci sono riusciti ma in realtà gli Stati Uniti fino a giugno del 2014 neanche erano preoccupati dell'esistenza di questa organizzazione che stava diventando uno Stato perché combatteva contro il regime di Assad o almeno questo si pensava e quindi in un certo senso faceva gli interessi degli Stati Uniti in una guerra per procura finanziata dall'Arabia Saudita, dal Kuwait e anche dal Qatar, quindi dagli alleati degli americani. Poi improvvisamente ci si è resi conto che questa organizzazione era diventata uno Stato e che questo Stato voleva giocare un ruolo molto importante negli equilibri politici dell'area e a quel punto è iniziata la grande coalizione e anche iniziata la lotta contro questo Stato, quindi parliamo di pochi mesi. Adesso bisognerà vedere quello che succederà in futuro, però sicuramente la grande forza dell'Isis o del Califato è la formulazione della cosiddetta utopia politica musulmana che non abbiamo visto dal VII secolo, quindi questa è la vera, vera forza. Sicuramente il concetto dell'utopia politica musulmana è un concetto fortissimo, pensiamo a Israele, l'idea di ricostituire Israele nell'area dove originariamente è nata la cultura ebraica, due secoli fa sarebbe apparsa assolutamente assurda, oggi come oggi è una realtà. Questa realtà si è concretizzata attraverso l'operato di una serie di organizzazioni e di individui che hanno spinto verso la creazione di uno Stato non più laico ma di uno Stato religioso principalmente che avesse come scopo quello di proteggere gli ebrei in tutto il mondo, quindi simbolicamente parlando lo Stato di Israele va bene al di là dei confini geografici e diventa un'utopia che si è realizzata, un'utopia politica. La stessa cosa vuole fare lo Stato islamico anche se a noi ripugna questo tipo di confronto, in realtà nell'immaginario collettivo dell'individuo che segue questo tipo di filosofia, che crede in questo tipo di filosofia e che fa parte del movimento di sostegno dello Stato islamico, questo è un sogno che può veramente realizzarsi, anzi in un certo senso già abbiamo visto una sua realizzazione perché nel momento in cui viene distrutto il confine tra la Siria e l'Iraq, confine creato dalle potenze europee alla fine della seconda guerra mondiale e dal loro posto viene instaurato un nuovo regime che è il Califato, già questo in un certo senso sembra una vittoria, quindi positivamente viene percepita questa rivoluzione in un certo senso. Io penso che questo sia un messaggio potentissimo, non solo tra i giovani ma anche tra i meno giovani. Io penso che questo sia in un certo senso un cocktail perfetto perché da una parte abbiamo la potenza militare che viene presentata come la conferma che Dio è dalla loro parte, dall'altra parte abbiamo invece la formulazione più teorica di uno Stato che non è solamente uno Stato militare ma anche e soprattutto uno Stato di diritto e quindi il tentativo di ottenere un consenso all'interno delle zone che sono state conquistate. In un certo senso qui si ripropone quel cocktail perfetto che il profeta Mohammed aveva creato quando inizialmente ha dato vita alla prima manifestazione politica dell'Islam. Anche lì avevamo elementi religiosi e elementi politici che si erano fusi e questo di nuovo è un altro elemento fondamentale che conferma l'importanza di questo Stato islamico, quale elemento politico di protezione ma anche di espressione per tutto il mondo musulmano. Il conflitto attuale nel Medio Oriente e quindi tra da una parte lo Stato islamico, il califato, l'isis come lo vogliamo chiamare e dall'altra le forze di coalizione organizzate da Presidente Obama, le forze anche a difesa del popolo kurdo in Iraq e anche in Siria e poi dall'altra parte l'esercito di Assad e infine tutti i gruppi insupprezionali siriani. Quindi abbiamo questo Stato islamico che in realtà è un po' il nemico di tutti. Io non credo che sia un conflitto solamente regionale, io penso che sia un conflitto politico a livello internazionale. Questo però non significa che lo Stato islamico voglia invadere tutto quanto il mondo o che ci troviamo di fronte a un film di 007 in cui abbiamo i cattivi, che sarebbe appunto lo Stato islamico, che vogliono conquistare tutto il mondo. Assolutamente no. Io credo che l'elemento di grande pericolo rappresentato dall'isis sia l'emulazione di quanto avviene nel Medio Oriente dei territori da loro conquistati in altri paesi. In altre parole la creazione di movimenti rivoluzionari, per esempio in Arabia Saudita, in tutta l'area del Golfo Persico, chiaramente a parte l'Iran, in cui si possono creare dei focolari rivoluzionari e la popolazione sunnita vuole cambiare regime e vuole aderire al califato. Non dimentichiamoci che il califato, come è stato concepito e come si è poi sviluppato nei secoli, non era in realtà uno stato simile all'impero romano, era più uno stato a caratteristica quasi federale, quindi c'erano vari califi, c'erano vari punti di forza. Ecco, secondo me questo modello, diciamo quasi di un federalismo del califato, potrebbe essere il modello vincente ed è questo che si teme, e questo è il vero pericolo. Se lì si vincesse, secondo me noi avremmo un processo di destabilizzazione nel Medio Oriente molto serio, potremmo avere un effetto domino in cui ipotizziamo che ci sia un movimento di rivolta che porti a un cambiamento di regime in uno di questi paesi chiave del Golfo, che potrebbe anche essere l'Arabia Saudita, a quel punto avremo veramente un processo di destabilizzazione che porterebbe a conseguenze catastrofiche, ma non solamente per quell'area, politicamente parlando anche per l'Europa, lo stato islamico è al confine con la Turchia, un processo di destabilizzazione di questo tipo porterebbe anche a un processo di destabilizzazione della Turchia. E' per questo che lo stato islamico va fermato, ma sicuramente non va fermato bombardando come abbiamo fatto fino adesso, o armando le milizie kurde, queste sono soluzioni di brevissimo periodo che non portano a soluzioni di lungo periodo, invece io sono dell'opinione che noi dovremmo cercare di capire esattamente cosa vuole questo stato islamico, quali sono i loro obiettivi finali, se ci sono degli obiettivi finali, quali sono le relazioni che hanno con forze sunnite a loro simpatizzanti e negli altri paesi limitrofi, iniziare un'indagine, non dico un dialogo, però conoscere il nemico, cosa che noi fino adesso non abbiamo fatto. Se vincono gli Stati Uniti e gli alleati come hanno vinto in Iraq, tra qualche anno avremo un altro stato islamico, qualcosa di simile, un altro Frankenstein, perché poi insomma questa è come una fenice che viene bruciata e poi dalle genere ne nasce un'altra che è ancora più forte, non possiamo pensare che la soluzione del problema del Medio Oriente sia una soluzione che noi abbiamo applicato un secolo e mezzo fa, quello praticamente della ripressione e quello dell'appoggio di elite filo occidentali. E' chiaro che questo non funziona, altrimenti non avremmo avuto vent'anni di guerra in quella zona, quindi bisogna cambiare registro, altrimenti continueremo ad andare avanti così, questo non significa che non si possa farlo assolutamente, però con il rischio di una destabilizzazione seria di tutto quanto il Medio Oriente e con le conseguenze disastrose per il resto dell'area, incluso il Mediterraneo e chiaramente l'Europa.